Mentre procedono a grande ritmo i lavori per la realizzazione della TAV nel ramo fra Treviglio e Brescia, ad alcuni mesi è nato la discussione relativa alla progettazione della tratta compresa fra Brescia e Verona. Il progetto iniziale prevedeva la cosiddetta pancia o shunt, ovvero a fianco di un'entrata in città per i treni provenienti da Milano, all'altezza di Rovato era previsto un ramo di ferrovia che affiancandosi alla corda molle avrebbe previsto una stazione a Montichiari, vicino all'aeroporto. Lo scalo Monteclarense però non è mai decollato e i comuni e regioni ora si trovano a dover ragionare su una rivalorizzazione della città. Il Pirellone nei giorni scorsi ha espresso le proprie perplessità sul progetto originario, trovando piena condivisione nel comune di Brescia. Aspettavamo da tempo questo parere di Regione Lombardia, parere particolarmente importante perché Regione Lombardia siederà assieme a tutti i ministeri nel Cipe, che è l'organo che avrà l'ultima parola sull'approvazione del progetto definitivo, dalla TAV Brescia-Verona. Il ragionamento fatto da Regione Lombardia trova la nostra condivisione sia nel metodo seguito sia nel merito delle riflessioni svolte. Nel metodo perché ha messo al centro della riflessione la funzionalità trasportistica dell'opera. Quindi prima di ragionare su soluzioni di tracciato e di cantiere di un certo tipo, occorre ragionare fondamentalmente sul significato trasportistico dell'opera, quindi su quali saranno i benefici che da essa potranno essere tratti per l'utenza bresciana e per il territorio bresciano. Anche nel merito della questione Regione Lombardia trova il pieno appoggio del comune. Le conclusioni a cui giunge il parere di Regione Lombardia, conclusioni importanti perché ad esse ha subordinato, al loro recepimento ha subordinato il proprio parere favorevole, sono valutazioni per molti versi analoghe alle nostre, cioè anzitutto la necessità di riaggiornare i modelli di traffici attesi, che per molti versi sono o datati o non più attuali e in alcuni casi addirittura inattendibili, come per esempio la previsione del traffico merci sullo sciunto a sud della città. Lo sciunto costerebbe circa 800 milioni di euro per andare a servire uno scalo, quello di Montichiari, che potenzialmente potrebbe esplodere, ma che da oltre dieci anni è praticamente fermo. Con quella cifra sarebbe possibile realizzare altre opere complementari. La necessità di investire fortemente sul nodo di Brescia e quindi su tutte le linee che convergono sulla stazione di Brescia, dove invece l'attuale progetto non prevederebbe alcun tipo di investimento, nel parere di Regione Lombardia sono indicate la linea per Cremona, Corradoppia San Zeno, la linea storica per Verona, il collegamento tra la linea storica Milano-Venezia e la rete di Ferrovie Nord per la Valcamonica e poi più in generale la necessità che i servizi ad alta velocità non soltanto transitino, ma fermino anche presso la città di Brescia, individuata come luogo dal punto di vista trasportistico e quindi anche dei benefici commerciali del gestore particolarmente importanti da non saltare.